Crippa invece con Asprilli è uno dei grandi assenti del Parma, per squalifica, l'Inter con Bergkamp, penetrazione verticale di Bergkamp, interrotta e poi c'è un'uscita, il colpo di testa di Sosa, la traversa, ancora Sosa, il gol, il pareggio dell'Inter, azione avventurosa ma felice per l'Inter, con un disimpegno sbagliato dei giocatori del Parma, è dovuto uscire al limite dell'area di rigore.